Non potete stare qui, non è possibile, mi dispiace, dovete uscire, lo sto chiudendo, non è possibile, è un assembramento questo, non potete stare qui, dobbiamo stare a casa tutti, è pericoloso, quello che vediamo nelle immagini sta succedendo veramente dagli altri parti, tra poco arriva anche qua, dobbiamo stare a casa. Perché non lo chiudiamo? E lo sto chiudendo, infatti mi state costringendo a tutto, andiamo, a casa, a casa, non si può stare così, vi dovete alzare, non potete dispiare, lo sto chiudendo, non si può stare, dai, andiamo, dobbiamo stare a casa, non si può uscire, a casa, è una cosa seria, non è un fatto normale che siamo qua tutti nel parco, dobbiamo stare a casa, dai, dobbiamo soffrire qualche giorno e ne usciamo, andiamo, a casa. A casa, a casa, a casa, a casa, mi dispiace, dovete uscire tutti, lo sto facendo chiudere, a casa, andiamo, non si può stare qui, andiamo, dai, andiamo. Non si può stare un assembramento, state tutti insieme, non è possibile, andiamo, è un fatto serio, non è che stiamo giocando qui, che stiamo chiudendo tutto, andiamo, a casa, a casa. Mi dispiace, a casa, mi dispiace, a casa, per favore, devo essere rifiuto, a casa, andiamo. A casa, a casa, a casa, tutti a casa, a casa, a casa, a casa, lo sto chiudendo, a casa, a casa, andiamo. A casa, a casa, mi dispiace, dobbiamo rispettare le regole, tutti a casa. Mi dispiace, dobbiamo rispettare le regole, per la nostra salute, andiamo, torneremo a fare una festa dello sport qua dentro, ve lo prometto, ma adesso ce ne dobbiamo andare. Non dovete uscire di casa, dovete stare a casa, tutti a casa, non è uno scherzo, tutti a casa, per favore, tutti a casa. Non è un telefono. Andiamo agli altri cancelli, no?